La città vecchia è stata completamente abbandonata al degrado, le periferie hanno preso il sopravvento e la grande fabbrica rischia la chiusura per eccesso di inquinamento dell'aria, della terra e del mare. I tarantini si trovano di fronte ad una scelta impossibile. O il lavoro e una probabile morte per tumore, o la tutela della salute con la disoccupazione e la probabile miseria. Cairo, 15 gennaio 1911 Giovannina mia carissima, siamo tutti in aspettativa, da un corriere all'altro, di notizie vostre tanto desiderate e gradite.